Arriveranno degli aiuti, tanti aiuti, 3 milioni e 700 mila euro per i servizi più, spero altrettanto, per lo sviluppo economico. I servizi essenziali sono tre, cioè scuola, sanità e trasporti. È una partita su cui lavoro insieme ai miei colleghi da quattro anni. È anche una partita, devo dire, molto oscura perché non si riesce a far vedere al cittadino ancora il risultato. Però è importantissima per questo territorio. Insieme al sindaco di Mendatica, che è il sindaco referente, perché abbiamo dovuto sceglierne uno che potesse poi alla fine firmare l'accordo quadro di programma, abbiamo costruito, io come presidente dell'Unione dei Comuni e tutti gli altri nostri colleghi, questo percorso cercando di individuare le carenze e le necessità di questo territorio. Il risultato atteso è riuscire a dare, costruire lavoro e servizi in un territorio per poter invertire quella che è la tendenza demografica allo spopolamento, cioè invertire la curva e fare in modo che questo territorio ritorni a essere popolato da giovani. Grazie. Grazie. Grazie.